Ciao amici e bentornati in questo nuovo video Non a caso siamo su questa schermata Poiché evento generazione e andremo a generare Valanga, vabbè Sono 700 cocci pari a circa 143.000 uova Io vado, autogeneratore, sì Quanti ne escono? Beh, circa 2 o 3 più o meno Sì Allora, iniziamo a fare Avalance Avevo le monete giuste Alla, secondo me, secondo i miei calcoli Sono giuste, giuste per farlo Compreso i mistici e compreso quello che riscuoterò Nei premi individuali Adesso velocizzo, anzi, velocizzo e salto Ci vediamo alla fine del video C'è della generazione e per le conclusioni Allora, eccoci qui Siamo appena a metà Mi sto annoiando, quindi parlerò un po' con voi Fortunatamente hanno levato una cosa Ovvero quella di Che ogni volta che si completa un uovo tipo platino Che infatti ne escono, che ne so, 10, 15 Sono quasi tutte, ad esempio, del primo drago Le uova che escono Quando si completava, prima Appariva sotto il pulsante Al posto che stop Incuba E magari uno, sbattatamente Cliccava e il drago andava nell'incubatrice E si era occupato magari per 20 giorni Quindi è una brutta sorpresa E invece hanno levato questa cosa Quindi non ho mai cliccato Ho lasciato qui Pensavo ci mettessi un po' meno Però comunque Fa da solo Cioè quindi uno Lo lascia qui Si va a fare Il caffè, la doccia Quello che è Ritorna E il drago è pronto Quindi questo è comodo Perché prima invece bisognava cliccare su No Su X Quando faceva in Cuba Sotto al posto che stop X Riprendi la generazione Generi un coach E poi autogeneratore Ok Quindi bisognava farlo ogni Che ne so 5.000 10.000 Gettoni spesi Quindi Buono Ma hanno fatto ogni tanto Un aggiornamento buono Allora Adesso Risalterò E ci vediamo Veramente Alla fine Alla fine Conti più precisi Di così Non li potevo fare Io ho detto Ho questi gettoni Con quelli che prendono evento Ma me li sono fatti Veramente al millesimo A quanto sembra Io Speravo di avere Un centinaio Di molere di bonus In realtà Me l'ho lasciato Con una missione Grande e piccola Cioè media e piccola Però vabbè Quindi Abbiamo generato Avalance Non lo metto L'incubatrice Perché ho l'incubatrice In costruzione Non so ancora Se voglio Velocizzarla Perché ho veramente Pochi giorni Sono ridotto così Quindi L'evento Della Della fortificazione Comincerà fra 9 giorni Sinceramente Sto messo Molto Molto male Quindi almeno Che ne so 900 mila Un milione Un milione Cento Vorrei farle A quell'evento E Potrebbe convenirmi Risparmiare Delle accelerazioni Perché Faccio l'incubatrice Dicono Perché non ci hai messo Allora Non l'hai fatta prima Quindi Perché è una novità Di questo evento Hanno messo Talmente pregature Con l'aggiornamento 3.0 In pratica Per fare I draghi Zaffiro Adesso L'incubatrice A livello 7 Che avevo io Non va più bene Dove io invece Ho generato Un mitico Zaffiro E Addirittura Per i garnet Non vorrei immaginare Se valsa dal 9 Addirittura Quindi i due livelli Non lo so Adesso sto provando Però I miei compagni team A livello 7 Non hanno potuto fare Gli zaffiro Anche se avevano Già fatto il mitico Quindi adesso Io farò questo Vedrò se ne può incubare E poi Altrimenti no Bene Direi che per oggi è tutto Se vi è piaciuto il video Mettete un mi piace Se non siete iscritti Iscriviti E ci vediamo al prossimo video Ciao